bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in random choice preferiresti quale preferiresti prima domanda preferiresti avere un cane o avere un gatto io preferirei avere un gatto preferiresti mangiare lumaco mangiare seppie ovviamente mangiare lumaco prossima domanda preferisci sposare jackman di chuggington o sposare harrison di chuggington ovviamente sposare harrison di chuggington chiamo harry oh che è successo preferisci il cibo dolce o il cibo salato? ovviamente il cibo salato carne o pesce? assolutamente pesce animali carnivori animali erbivori animali erbivori capro o mucca? mucca bianco o nero? nero perché il nero mi ricorda la notte eclissi lunare o eclissi solare? eclissi solare caldo o freddo ovviamente caldo inverno o estate? estate aschio pitbull pitbull cavallo capra capra cavallo pony pony chuggington o trenno thomas? chuggington ovviamente chuggington treni diesel o treni elettrici? treni diesel treni femmine di chuggington o treni maschi di chuggington? treni femmine di chuggington ovviamente viaggio in treno o viaggio in auto? viaggio in treno ovviamente treno metropolitana tutti giù per la metropolitana e questo era il mio ultimo di cosa preferiresti ci vediamo in un prossimo video ciao